Ciao a tutti, finalmente ritorno con un piccolo tutorial su questo fiocchettino. Come fare questo fiocchettino? Con questo attrezzo che serve per fare le buste e altri lavoretti particolari. Allora, per fare questo fiocchettino ci servono tre striscioline di carta di 2,5 cm x 12,7 cm. Quindi due striscioline misurano 2,5 x 12,7 cm e quella più lunga misura sempre 2,5 x 15,2 cm. Allora, prendiamo la strisciolina più piccola e la posizioniamo su 6,4 mm. Ok? E schiacciamo. Giriamo e la riposizioniamo nello stesso punto, 6,4 mm. E schiacciamo. Poi, per fare le punte del fiocco, cioè questa parte, posizioniamo il foglio al centro. al centro. Anche se viene un po' storto non ci fa niente. Però cerchiamo di farlo più al centro possibile. Schiacciamo. Giriamo dall'altro lato, lo posizioniamo più al centro possibile e schiacciamo. E questa è la base. Poi, prendiamo l'altro fogliettino, che è la stessa misura di quello, e schiacciamo sempre a 6,4 mm. Giriamo dall'altro lato, 6,4 mm. E poi, per arrotondare gli angoli, lo posizioniamo dietro e schiacciamo. Lo giriamo dall'altro lato e schiacciamo. E facciamo la stessa cosa con gli altri due lati. Ecco, questa è l'altra base. Questo che è più lungo lo dobbiamo posizionare a 7,6 mm. Sì, 7,6 mm. Sì, 7,6 mm. Schiacciamo. Facciamo lo stesso dall'altro lato. E schiacciamo. E rotondiamo gli altri angoli. E poi, per esempio, A questo punto dobbiamo assemblare il fiocco. Allora, prendiamo la colla. Prendiamo quello più lungo e cerchiamo di dargli una forma alla carta. e tutta tutte e due lati. E mettiamo un po' di colla nell'estremità. E li assembliamo e schiacciamo un pochino in modo da far aderire bene la colla anche se con questo freddo ci sta un po' di più ad asciugare. e facciamo la stessa cosa con l'altro, quello più piccolo. Facciamo un po' di colla nell'estremità. e poi incolliamo un po' di colla qua sotto e incolliamo uno sull'altro e l'altro. Il fiocchettino è pronto. Si possono anche cambiare le misure del fiocchetto. Se lo vogliamo fare un po' più sottile invece di 2,5 riduciamo o 2 centimetri o 1,5 però le lunghezze devono essere sempre quelle 12,7 e 15,2 Questo è il fiocchettino che ho visto poco fa su YouTube. Ciao e alla prossima! Iscriviti al nostro canale! Iscriviti al nostro canale!